Salve raga, oggi andremo a fare la ricetta delle lasagne alla pistoiesse, tipica di noi altri pistoiesi. Uno spettacolo, sono una sega a serravalle. Una volta le mangiai acquarnate e tu vedessi... Ancai a spruzzo per due giorni, stati tre giorni ai cairoini. Una volta che voi avete fatto vuol dire l'olio, andate ad aggiungerci la cipolla e fate un soffrittino. Una confezione di fungo porcino del labetone, vi raccomando. A prato una lasagna del genere se la sognano, anche perché con le bacchette, diciamo, tu la mangi male, ci vuole la forchetta, è un sanno. Allora, questa è una ricetta tipica proprio della mia nonna, della nonna, di una mia nonna agli stia a serravalle, nini, avviso mio uomo. Che avete avuto bucaioli? Ora, vu prendete mezzo filo di forchetta di quella buona, mi raccomando, questa di quella buona. Se vuoi sapete di dare di qualche cosa, vu vedete questa qui, vu vedete io dove l'anfilo questa forchettina. Ti do un indizio, diciamo che da qui il buco tu ci fai anche la merda, quindi neanche lo scherza poco perché io ti batto nel muro. Anteso? Stato in filo in me, a guardare le lasagne non le sanno fare perché fanno un trogolaio, ma sono una sveglia a guardare, a me si fa a fare lasagne. Io ci lo metto a bagno, Maria, diciamo, la troia della tuzia. Ma dai, io voglio lo sfilo, se ve lo prendo io, tra le mani, cosa vi passa la voglia? Troppo vedo io, una tortella, tu vedi, si va a sfilagnere come se fosse un randello, vedete, si va diciamo a soffriggere, ma vada il sugo, vada il sugo, ma stanno una sega a Bologna, un sugo di genere a Bologna per dire, non te lo sanno fare. Una cosa molto importante è la passata di pomodoro. A Napoli se la sogna non hanno mai visto una passata di pomodoro, e com'è questo qui? Allora ragazzi mi sto cagando addosso, facciamo veloce perché mi scappa una carta fa provincia. Non vi preoccupate, sono già stata al gabinetto, allora, Roberto, mi guardi se ho tirato lo sciacquone. No, tu l'ha tirato. Allora, ma mi piacere, tiramelo te. Allora, andiamo avanti con la ricetta, questa è la panna e questa è un ingrediente misterioso. Andiamo a burrare la lettiera di ganto e chi ci vuole fare le lasagne, belle fatte, le hanno belle pronte, il sugo gli ha cotto a tre ore per dire, Nini, che ti devo fare una sopra quell'altro, uno strago sopra quell'altro e belle fatte le lasagne alla pistoiesse. Vediamo a vedere il risultato, io lo belle fatte per voi. Eccoci qui ragazzi, questa è pronta all'assaggio, da un fornagnere, ora si va a riscaldare a 180 gradi per i quattro giorni, capito mio mo? Andiamo all'assaggio, oionini belle, se le rifò a Natale ci fa un figuro, e allora ragazzi, una bella cola light, mi raccomando, non prendete quella zero perché sennò la fa male, troppe calorie le fanno male, diciamo, e bisogna andare a correre. Allora, io questo lasagne proprio fatto da me, medesima me stessa, come le foglie ragazzi, ci provano... Ragazzi, mi raccomandi qua, cola light, eh?